mister fregnani ammetto di essermi divertito due settimane prima contro il reno oggi ancora di più contro il football cava ronco tre grandi squadre protagonisti questo campionato oggi due grandi squadre di fronte un solo neo quello che praticamente la tua squadra ha smesso di giocare nel momento in cui pensava di averla vinta invece il calcio non ti regala nulla non ti dà nulla per scontato con il football cava che è entrato in partita siamo andati in doppio vantaggio poi noi ci siamo addormentati loro sono stati molto bravi molto bravi perché hanno colto i momenti le situazioni sono stati sono stati squadra in quella mezz'ora del secondo tempo dopo il 2 a 0 sono stati molto più più in partita più in palla di noi poi dopo ci siamo un attimo risvegliati e nell'ultimo gli ultimi 10 15 minuti siamo rientrati siamo rientrati un po in partita però quella mezz'ora non puoi concedere anche perché la partita era sotto controllo sia di punteggio che di che di uomini e non puoi concedere un così tanto a una una squadra che seppur forte però era comunque in 10 fino a quel momento nel secondo tempo eravamo eravamo in partita il calcio è fatto anche di difficoltà oggi la tua formazione ha vinto una partita contro un grande e valido avversario a quanto ammonta la forza di questo pietracuta in questo momento della stagione allora sicuramente è un passo se impariamo da dagli errori dell'inizio del secondo tempo è un passo in avanti questo lo vedremo nelle prossime partite perché un approccio dopo il 2 a 0 così non è un passato non è una crescita è un errore se lo impariamo che non ci dobbiamo addormentare noi ma dobbiamo addormentare la partita poi forse riusciamo a crescere ancora sicuramente anche oggi abbiamo abbiamo fatto una scritta partita e però non puoi fare delle disattenzioni così abbiamo giocato 300 palloni morbidi e poi alla fine è logico che sbagli perché poi perdi perdi l'intensità perdi perdi la testa e loro giustamente ne hanno approfittato il football cavaron che è una delle più belle realtà di questo campionato una squadra che gioca un ottimo calcio un calcio piacevole e nonostante l'uomo in meno siete riusciti a ristabilire la parità in campo l'impressione che ci siete sempre stati fin dall'inizio e avete continuato ad esserci nonostante l'uomo in meno fino a pareggiarla poi dopo è stato fatale il gol di fratti subito negli ultimi minuti finali però bisogna riconosci una grande prestazione la vostra sì sì ragazzi hanno sicuramente dato una bella prova di orgoglio perché non è facile un uomo in meno andare sotto di due reti avere quella relazione lì quindi dobbiamo ripartire da quello dispiace nel senso la giocata 11 contro 11 tutto qua qualche polemica notato da parte vostra sulla direzione arbitrale è arrivata anche un espulsione dalla panchina nel corso della prima frazione di gioco sul finire esattamente volete aggiungere qualcosa dire no non voglio entrare in merito in queste cose qui ripeto dispiace che rigore più un cartellino rosso così mi sembra un po troppo da troppo penalizzante sarebbe piaciuto giocarsi a partito 11 contro 11